e quando arriviamo chi c'è a casa che ti aspetta e quando arriviamo chi c'è ma dopo noi c'erano due ore ad andare a casa in macchina arrivano belli cotti e come per te mi sa è la prima volta lui che viene sette vergini tutte e due credibile basta 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 ma cosa c'è qua gridate nella valle piuttosto chi è adesso qua ha detto che che abita qui è abita qua a cosa come si chiama san siro prima abitava pare e giuda le nostre